signori a cattone fin del 1961 di pasolini consigliato lo trovate anche su prime video è molto bello molto bello molto crudo molto reale molto bello bianco e nero ma bello guardatelo non è velocissimo ma ti tiene lì voto otto e mezzo non di meno assolutamente guardate questo filmettino e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un bel like ciao ciao